Lo scenario marchigiano rispetto al mondo della transizione digitale ci porta ancora a guardare a due velocità molto differenti, dei campioni del digitale che ci permettono di raccontare storie estremamente interessanti di quanto quella transizione digitale porti a un cambiamento dell'impresa, del mercato, dei suoi prodotti e dall'altra parte una serie di imprese che ancora guardano questo settore dicendo beh forse non sarà per me, forse sarà troppo complesso o forse non sarò io il primo attore di quest'azione. In questo dipinto fatto di molti chiari scuri io sono abbastanza ottimista, i campioni delle marche sono tanti e dobbiamo sforzarci di mostrarli perché probabilmente procedere per testimonianza è l'unica forma che c'è in un settore in cui ancora non ci sono ricette e bisogna capire un po' quello che succederà. Forse se dobbiamo rispondere alla domanda ma esiste almeno una chiave di lettura abbiamo provato a riassumerlo in un libro che si chiama per un manifesto della manifattura italiana e lì dentro la mia visione è quella che probabilmente le piattaforme digitali saranno non solo abilitanti del futuro delle nostre imprese ma anche della collaborazione tra le piccole e medie imprese delle marche e lo possiamo dire anche attraverso degli esempi. Abbiamo molti esempi di imprese di settori diversi che collaborano sullo strato del digitale anche perché nessuno può crearsi tutto da capo ogni volta dentro la propria impresa e questo strato del digitale che permette collaborazione forse risolverà anche altri problemi strutturali. Il grande tema è il nanismo, del fatto che la media degli addetti per le nostre piccole e medie imprese è sotto al 10, al 9 e il fatto che probabilmente nel far crescere il settore del manifatturiero dobbiamo guardare anche a un piano industriale per le imprese del digitale perché se non crescerà il mondo delle imprese del digitale a supporto di quelle del manifatturiero probabilmente sarà un po' un cane che si morde la coda e non riusciremo né in una parte né nell'altra a crescere in maniera importante. La sfida è quella di cercare nelle marche di guardare ad una visione futura, è un piano industriale se volete della transizione digitale e del digitale che insieme ci portano a far crescere il nostro tessuto imprenditoriale.